Qual è il problema sotteso al ragionamento secondo cui il pensionamento anticipato sia lo strumento per far entrare i giovani nel mercato del lavoro? Ragionamento è un ragionamento di questo tipo, c'è un certo numero di posti di lavoro e quindi se noi vogliamo far entrare qualcuno bisogna che qualcun altro esca, è come avere un autobus e quando l'autobus è pieno il conduttore non si ferma oppure se si ferma fa scendere qualcuno e ne fa entrare altri. Ma domandatevi questo, il mondo del lavoro funziona così? Perché deve funzionare così? Perché deve essere impossibile che tutte le persone che sono in età lavorativa e hanno la capacità di lavorare perché hanno buona salute e possono lavorare, perché non possiamo pensare a un'economia che dà lavoro a tutti? Tutti vuol dire, non tutti, tutti, cioè avere un tasso di disoccupazione in un ordine di grandezza di 3-4%, non 12%, non 30% o 35% di disoccupazione giovanile. Allora questo non è un'utopia perché ci sono paesi, parliamo dei paesi nordici, parliamo sempre prima della pandemia, parliamo della Germania, la Germania è un paese dove il tasso di disoccupazione era più basso e non c'era diversità tra la disoccupazione giovanile e la disoccupazione invece di generale, di tutte le classi di età. Vuol dire che quando un'economia riesce a fare lavoro lo fa per i giovani e anche per gli anziani, invece noi abbiamo sempre avuto questo atteggiamento del numero fisso dei posti di lavoro, che in economia non ha senso. Noi dobbiamo lavorare perché quel numero aumenti, perché noi abbiamo bisogno di tante cose che sono oggi servizi. Pensate un po', domandatevi questo, come avremmo fatto noi a risolvere il problema delle cure ai nostri anziani. Se noi non avessimo avuto le badanti che sono venute dall'Europa dell'Est e hanno svolto in maniera egregia, il più delle volte, poi magari qualche caso sfortunato c'è stato anche lì, ma il mondo non è mai perfetto. E questo è il lavoro e questo è qualcosa che noi abbiamo potuto risolvere in mancanza di strutture, in mancanza di sostegni adeguati, perché questo è uno dei problemi che sono stati lasciati ampiamente ai comuni, perché noi pensiamo da un lato solo alle pensioni, quindi per gli anziani la cosa importante è mandarle in pensione, quando non lo sono ancora. Invece uno dei bisogni della popolazione sono le cure e l'organizzazione delle cure. Dall'altra parte, se le persone sono in grado di lavorare, noi dobbiamo pensare magari a farli lavorare insieme ai giovani, non sempre manda via uno. E lo stesso ragionamento valeva per le donne e ancora oggi in molti casi si dice, beh se non è proprio necessario è meglio che la donna stia a casa, si occupi dei figli, ma fate servizi per l'infanzia, fate asili nido e poi le donne possono fare figli, avere un lavoro e non essere costrette a stare a casa al primo o al massimo al secondo figlio, ma oggi il secondo figlio non fa quasi più nessuno e questo è un problema. Allora l'economia non funziona a numero fisso di posti di lavoro e il modo bisogna capovolgere il problema e domandarsi che tipo di regole, istituzioni, comportamenti, per esempio alludo all'apprendistato, alludo alle politiche attive, tutte cose che servono per far funzionare il mercato del lavoro. Se non ce l'hai e allora sei sempre lì con numeri limitati, ne mandi via uno per farne entrare un altro. Ma è un errore concettuale e anche vorrei dire una posizione comoda, perché la sfida è cercare di fare posti di lavoro, cercare di incoraggiare il lavoro, non di scoraggiare. Questo è, spero che il suo, il nostro ascoltatore, non ricordo come si chiama. Silvano. Silvano. E si vede, guardate, proprio empiricamente ci sono dei grafici che mostrano in modo molto chiaro che là dove l'occupazione delle classi di età più anziane è più alta, è anche più alta quella delle classi di età giovanile. Vuol dire che sono società, economie che sanno, che riescono a mettere insieme regole e comportamenti tali da fare il lavoro. Si vede benissimo, non c'è sostituzione, c'è complementarietà. Grazie.